Con l'anno eggio tutto va! Con quello nuovo fortuna sarà! Tezze, in migliaia ieri, sono accorsi a Campagnari sfidando il gelo per assistere alla tradizionale festa della Befana che giunta ormai al suo quarantesimo anno di vita continua a crescere di successo e popolarità. Tema portante di questo 2017 è stata la solidarietà. La Befana, alta 11 metri, ha cucinato la pasta alla matriciana per tutti con una pentola gigante alta 4 metri e larga 10. Tutto il ricavato assieme agli 8.000 euro già raccolti nelle scorse settimane dal Comitato per la Befana di Campagnari sarà ora devoluto ai frati di Ascoli Piceno dove sono ospitati gli sfollati di Arquata del Tronto.